Alfa Romeo 1.9 C Super Sprint Zagato E' costruita sulla base della già famosa 1.9 presentata qualche tempo prima nel 1950 dall'Alfa Romeo e che già è famosa per essere un'automobile solida e molto veloce anche nelle sue versioni berlina di serie ma ovviamente col passare degli anni chi si diletta nelle competizioni e quindi e anche qualche professionista ovviamente alza l'asticella nelle esigenze di competizione ed ecco che nel 1954 l'incontro di Valedimiro Galluzzi, un costruttore milanese con Elio Zagato, titolare dell'omonimo Carazzeria e nonché pilota e fondatore anche della scuderia Sant'Embrese gli propone la costruzione di una 1.9 più veloce ed è così che nasce la piccola serie proprio partendo dalla prima automobile costruita per Valedimiro Galluzzi che viene poi collaudata dall'Alfa Romeo stessa con Salvo Sanesi il risultato è eccellente, il connubio tra la già veloce, affidabile, stabile Alfa Romeo 1.9 e il tocco magico della carrozzeria Zagato ne creano un'automobile velocissima ed estremamente vincente questo bellissimo esemplare appartene niente meno che a Job Bonnier pilota svedese di Formula 1 il quale partecipò lui stesso a numerosissime competizioni con questa 1.9 Zagato grazie